Grande festa alla Villa Comunale di Chieti con le premiazioni della Maratona Dantesca organizzata dal Kiwanis Chieti Pescara d'Annunzio presieduto da Miranda Di Matteo. A organizzare il primo social contest kiwaniano dedicato al Sommo Poeta sono state in particolare le socie Lilia D'Alesio, Mariella De Santo e Federica Palusci, chi ascoltiamo? Una maratona Facebook, perché in questo periodo non potevamo fare altro, dedicata alle letture di questo grande Sommo Poeta in cui hanno partecipato di ogni fascia di età. Tutte le persone, anche di altre nazioni, ognuno ha messo qualcosa di creativo, diciamo che molte persone hanno preso in mano i libri e hanno poggiato l'uso del cellulare per altre cose, diciamo, e questo è già stato una grande vittoria. Oltre 100 i partecipanti, senza contare le scuole premiate con borse di studio da 200 euro, il concorso non ha avuto limiti né di età, con lettori dagli 8 agli 80 anni, né geografici, composti arrivati anche da fuori Italia, né linguistici con contributi anche in dialetto. Il concorso è un concorso di creazione di creatività e artisticità, tra i premiati anche Reteotto con Lorenzo Colantonio, giornalista del centro, Mario Del Grande, Antonio D'Ottavio e l'ex procuratore di Pescara Nicola Trifuoggi. Dante ovviamente è sempre stata una mia passione fin dai tempi della scuola e in particolare in questi momenti in cui Dante rappresenta l'italianità. Noi abbiamo bisogno di una nostra identità in questi momenti di grande confusione. Mi sarei aspettato da lui una vera e propria requisitoria dantesca, che so, un sesto canto, un'invettiva a Pisa. Invece che brano ha scelto di Dante? Io ho scelto il canto di Giustiniano. Perché? Il Paradiso. Beh, perché Giustiniano è quello che ha tolto dalle leggi troppo il vano, no? La premiazione condotta da Mila Cantagallo ha visto anche la performance del soprano Chiara Tarquini.